No, è stato molto convincente, ha detto cose vere, poi lui comunque ha il dono di anche semplificare i concetti difficili, quindi si capisce comunque bene il discorso. Una domanda voglio farti, quanto tempo tuo padre passa lavorando, facendo tutto quello quasi 24 ore su 24 ore, sempre, perché lui praticamente dorme alla fine per inerzia, perché mentre lavora, mentre fa, mentre si organizza, poi si addormenta, è sempre sul lavoro, è la sua passione, è anche il suo rifugio, in un ambiente come possono essere gli ambienti il carcere eccetera, il lavoro l'ha protetto, l'ha protetto dell'esterno. E te cosa ne pensi di questo? Il lavoro aiuta, però secondo me lui dovrebbe anche concentrarsi su altre cose, perché quello che gli piace, non lo so, che lui gioca a calcio, fa sport, è importantissimo lavorare per carità, però secondo me il lavoro è un rifugio. Questa è la cosa più bella che potesse dire, un applauso. Devi sapere che Carlos, nei miei lunghi anni di galera, è sempre venuto a trovarmi.